Salve a tutti, buongiorno tennistico da TNBT, ritorna la rubrica sul tennis e la rubrica sui Australian Open, quindi per i grandi tornei dello slam torniamo qui a parlare di questo fantastico sport e come vedete ho anche messo la mia vecchia Babolat sullo sfondo a fare da sponsor, quindi doppio sponsor Babolat oggi. Allora ragazzi di cosa parliamo oggi? Sono quasi conclusi i primi turni dello slam australiano e tempo di primi bilanci quindi di questo torneo per quanto riguarda soprattutto gli italiani, facciamo oggi questa piccola parentesi visto che non si sa quanto andranno avanti i tennisti azzurri, comunque in un primo turno dove non ci sono state clamorose eliminazioni per quanto riguarda i big, i principali appunto sono tutti per ora andati avanti abbastanza tranquillamente, parliamo un po' degli azzurri. Il match più esaltante di oggi, senza dubbio anche quello più intriso di polemiche è stato quello, guarda caso, di Fabio Fognini. Il Ligure infatti ha rimontato uno svantaggio di 2-7 a 0, ieri la partita era stata sospesa per via della pioggia, oggi appunto è ripreso a giocare, si è ripreso a giocare e Fognini ha rimontato uno svantaggio di 2-7 a 0 contro Rayli Opelka, quindi prendendosi un po' la rivincita della partita degli US Open 2019 dove appunto aveva perso in 4-7 sempre con lo statunitense. Come dicevamo nell'altro video Opelka è un avversario molto difficile perché è altissimo, è uno dei classici bombardieri, un pochino alla Isner, se così vogliamo definirlo, alla Karlovic però in più si muove anche abbastanza bene da fondo e lo stesso Fognini l'ha detto in conferenza stampa, insomma è un avversario particolarmente difficile, l'avevo detto anche se vi ricordate nel video appunto di introduzione agli Australian Open, Opelka al primo turno sicuramente un brutto cliente. Fognini comunque è riuscito a vincere, a vincere in 5-7, una rimonta soprattutto da 2-7 a 0, cosa che negli slam gli è già riuscita e gli è riuscita se vi ricordate contro questo signore qui dietro, quindi non contro il primo venuto, insomma quando Fognini se non sbaglio nel 2015 a New York rimontò 2-7 di svantaggio a Nadal e vinse al quinto, quindi queste imprese non sono nuove per Fabio, come purtroppo non sono nuove neanche le polemiche forti che ha suscitato quando nel quinto set, nel terzo game appunto dopo aver subito un penalty point si è rivolto all'arbitro brasiliano Oscar Bernardes, uno degli arbitri diciamo più conosciuti dell'ATP, con parole non proprio carine. Ecco, vi posso leggere un piccolo estratto, Fognini gli ha detto fai pena, ho solo fatto così con la racchetta, non puoi parlare, stai zitto, addirittura insomma non mi piaci, non mi metti tranquillità, per questo non voglio giocare con te come arbitro, quando ti vedo sulla sedia sbrocco perché non sei all'altezza, insomma. Parole sinceramente un pochino forti, capisco che Fognini in questo caso poteva anche avere ragione, però anche quando hai ragione ci sono modi e modi secondo me per dire le cose, quando sei un professionista di quel livello, insomma purtroppo la testa calda di Fognini non riesce proprio a raffreddarsi in queste situazioni e diciamo che da un certo punto di vista la cosa non mi dispiace, nel senso che personaggi tra virgolette coloriti come lui, come Kyrios ci stanno nel circuito, però il problema è quando magari questa rabbia, questo nervosismo che lui sfoga così poi si ripercuote negativamente anche sul gioco. Ecco, oggi per fortuna non è stato così, va detto che comunque con un altro arbitro forse avrebbe rischiato anche la squalifica, quindi in un certo senso Fognini oggi l'ha scampata bella, fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate sulla questione, se credete che avesse dovuto essere squalificato o meno, anche se magari nel merito aveva ragione, però ripeto ci sono modi e modi. Per quanto riguarda le analisi della partita, è sopravvissuto a una pioggia di 35 ace, ma questo appunto è normale contro un battitore come Opeca, la cosa positiva è che anche Fognini stranamente, perché non è sempre così, ha servito molto bene. 11 ace per lui, qui vedo appunto una grande percentuale di punti fatti con la prima e anche con la seconda di servizio, nonché 14 punti conquistati a rete su 18 discese, quindi un Fognini improntato all'attacco, ha servito bene, si adatta bene comunque anche al veloce, ormai lo sappiamo da anni che Fognini nonostante magari abbia fatto i suoi exploat sulla terra battuta, è comunque un giocatore anche da veloce, perché ha una rapidità di braccio che gli consente comunque nel corso dello scambio di generare una velocità incredibile, nonostante non sia appunto un colosso fisicamente, è comunque diciamo molto reattivo e anche potente quando riesce ad arrivare bene sulla palla, quindi risultato che ci sta, ripeto non era facile, però alla fine quello che conta è che il risultato è stato portato a casa e al prossimo turno Fognini se la vedrà contro un giocatore di casa, quindi contro un australiano Jordan Thompson numero 66 del mondo, che sulla carta è un giocatore ampiamente alla portata di Fabio, anzi mi stupirei a questo punto se al secondo turno perdesse. Dopodiché parliamo un po' degli altri italiani, Yannick Sinner, giovanissimo, pupillo del tennis italiano e secondo molti anche futura stella del tennis mondiale, ha battuto in 3 set Max Purcell, un avversario devo dire ampiamente alla sua portata, quindi non mi ha stupito particolarmente, già questo insomma il fatto che non mi abbia stupito la dice lunga su quante aspettative ci sono su di lui, e al prossimo turno signori miei, al prossimo turno, qui prendo il mio quaderno degli appunti, se la vedrà con Martin Fuksovis, Fuksovis numero 67 ATP, che ha sconfitto a sorpresa un altro giovane, giovanissimo, promettente del circuito, il canadese Denis Shapovalov. Sicuramente sarebbe stato forse più interessante per noi fan vedere un secondo turno Sinner-Shapovalov, perché sono appunto due o tre giocatori più giovani e sui quali si parla di più, quindi due futuri forze dominatori del circuito. Tuttavia anche con Fuksovis potrà essere un bel match, non è sicuramente un avversario facile, però comunque anche qui, seppur con difficoltà, secondo me Sinner può farcela, il che lo porterebbe al terzo turno. Però ancora, ecco, vediamola un pochino un passo alla volta. Tra gli altri italiani che hanno superato il turno c'è Andrea Seppi. Andrea Seppi che ormai, diciamo, è quasi tenuto sotto traccia, appunto per via degli exploit, dei giovani, e comunque anche per via di Fognini che fa sempre più notizia, ma in realtà, ecco, zitto zitto, seppi poi fa sempre il suo. Quindi anche oggi una vittoria in tre set facile contro un avversario giovane, il serbo Kaczmanovic, che nell'altro video avevo dichiarato russo, quindi mi scuso, e quindi ecco, anche Seppi tranquillamente al secondo turno, zitto zitto, dove, appunto, scusate, al secondo turno, dove incontrerà Stan Wawrinka. Stan Wawrinka che ha vinto anche lui facilmente, e i precedenti, ecco, sono 3 a 9, 9 vittorie per Wawrinka e 3 per Seppi, quindi, questo per farvi capire che è un'impresa difficile, molto difficile, ma non impossibile, tra l'altro hanno anche un precedente agli Australian Open nel 2017, dove Wawrinka vinse in 3 tiebreak, quindi in maniera netta, ma comunque sofferta. Per il resto, successo anche di Berrettini, facile in 3-7 su Harris, che al prossimo turno si becca Tennis-Sandgren, e qui, anche qui, è un avversario abbastanza ostico, perché, appunto, è uno di quelli che picchiano, che hanno una palla pesante, non particolarmente tecnici, però comunque sui terreni veloci, sicuramente da tenere d'occhio. Quindi Berrettini sicuramente favorito al secondo turno, ma occhio a Sandgren, che se in giornata comunque può causare qualche problema. Per il resto parliamo un po' anche di quelli che hanno perso, perché ci sono, non si deve parlare solo dei vincitori, ma anche degli sconfitti, quindi Caruso, demolito in 3-7 da Tsitsipas, onestamente non si poteva chiedere di più al buon Salvatore. Insomma, Tsitsipas è uno dei favoriti per la vittoria finale, io addirittura ho fatto una previsione in un gruppo di Fanta Tennis, posso dirla anche a voi in diretta adesso, ho dato vincitore di questo torneo Tsitsipas, forse anche un po' per scaramanzia, perché io tifo qualcun altro, però lo do come uno dei possibili vincitori. Quindi Tsitsipas facile in 3-7 su Caruso, poi ha perso anche in 3-7 Travaia, contro un avversario che sicuramente non è Tsitsipas, ma comunque è un buon avversario, il cileno Christian Garin, e ha perso in 3-7 anche Lorenzo Sonego, contro uno degli idoli di casa, appunto l'australiano Nick Kyrgios, che comunque ha dovuto ricorrere a due tie-break per battere il tennista piemontese. Quindi il bilancio finora è di Fognini, Sinner, Seppi e Berrettini, 4 tennisti avanzati al secondo turno, contro 3, appunto, eliminati, che sono Caruso, Travaia e Sonego. Per il resto si sta giocando in questo momento l'ultimo match dei tennisti, appunto, italiani, che vede impegnato Marco Cecchinato contro Alexander Zverev, vediamo un attimo se riesco... Ah, ecco, anche Lorenzo Giustino ha perso in 3-7 facile, con Raonic, 6-2, 6-1, 6-3. Anche qui Giustino era ripescato come lucky loser, quindi aveva poche speranze sulla carta, infatti, poi è stato battuto facilmente. Sto ricercando adesso il match di... Vediamo se lo trovo... Un attimo di pazienza... Cecchinato Zverev, stanno giocando in questo momento, vediamo un po' come va la partita, e dovrebbe aver vinto già il primo set Zverev, 6-4, nel secondo per ore avanti Cecchinato 4-3. Vediamo un po' come procede. E niente, per il resto non ci sono state clamorose eliminazioni finora, almeno fino a questo momento, un altro giovane canadese è stato eliminato, Auger Aliassim, classe 2000, però da un vecchio volpone come Ernest Gulbis, che, insomma, quando ci si mette, può far valere veramente il suo talento. E niente, ci vediamo con altri video, commenti sul tennis, presto arriveranno partite sempre più interessanti da commentare, quindi fatemi sapere se volete che questa rubrica vada avanti, lasciando un like, magari una condivisione, o quello che vi pare, e un saluto a tutti da TNBT, buon tennis ragazzi, Buon Australian Open, ciao.